Questo è Anoberb Senocide, è una creepypasta orribile, è una creatura veramente bruttissima, io lo sto guardando, ha distrutto con la motosega la porta della chiesa, almeno questa mi sembra che dovrebbe essere una chiesa, vado un attimo a seguirlo perché questa è una nuova avventura nel mondo magico e pauroso di Doonis, che cavolo è? E' veramente una chiesa, ma perché? No, mi sa che, spero che non mi abbia visto, cosa sta facendo lì? No, 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 devo andarmene immediatamente via perché mi sembra che, oh no, 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 guarda, ma cosa ha in mano? Vedo che sta facendo una cosa ma non sto capendo bene cosa, ok, andiamo immediatamente via perché questa cosa non mi piace, non mi ispira, secondo me qua c'è qualcosa di veramente oscuro, questo villaggio mi sembra maledetto e io dovrei aspettare dei miei amici che arrivino in questo mondo ma mi sa che non sono ancora pronti a venire, perché è troppo, troppo pauroso, inoltre sono ancora in viaggio purtroppo, allora, questa è la mia base momentanea che andrò a prendere e c'è una peca capra, non so che caspita sia, e sì, questi sono scheletri, oh no, 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 sto sentendo lui, è proprio lui raga, è proprio lui, ok, allora, mi raccomando restate con me perché ho paura, ho troppa paura, dobbiamo spiarlo, dobbiamo capire bene che caspita abbia in me, che cosa ha in mente, sta nella casa e si sente proprio, proprio il verso della motosega, allora, io direi di prendere prima di tutto degli oggetti qua, e ho una mossa, nel caso lui si faccia molto più pericoloso, ricordiamolo è una creepypasta molto potente, adesso vado un attimo fuori a vedere cosa sta facendo, perché questa capra mi sta uccidendo, non è normale, come cosa, no, 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 perché la capra mi ha fulminato, no, non è possibile sta cosa, scomi un attimo, com'è possibile, aspe, 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 mi sta ammazzando, come, che capra è sta cosa, cioè non è normale, devo entrare nella casa, se no mi ammazza, Ma, che non sono normali queste capre qua, che fanno cose Oh mio dio, oh mio dio, no, oh mio dio, no, 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 come faccio ad uscire? Devo distruggere quale cose? No, 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 distrutto Porco zio, zio svizzero No, aiuto Aiuto No, no, devo andarmene via Uso la spada, via Scappiamo, via, via Ok, siamo in pericolo, raga Siamo in pericolo, dobbiamo distrarci Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo dirgli di non fare niente Come faccio a dirgli di non fare niente? Non è normale questa cosa Aiuto, aiuto Ok, allora Sembra che non ci sia per il momento Ok, lo vedo E lì, sta tipo Aspettando che io Vada in quella casa, no, no, non deve permettersi Di entrare in quella casa, lì ci sono i miei materiali Ci sono i miei materiali, non posso lasciarli là Come faccio a lasciarli? I miei materiali, per il rituale satanico, cioè volevo dire Per il rituale, per lo spirito che dice Basta questa capra che mi sta uccidendo Perché poi si diverte a distruggere le case? Ha distrutto di nuovo pure questa casa Lo vedo, è proprio qui Sta avendo un martello in mano E poi era uscito dalla mia casa, non so perché Sono stato un po' a spiarlo È veramente strano Si comporta veramente in maniera strana Però è molto interessante spiarlo Perché questo è No Barbus Enocide E appunto questa nuova creepypasta Che ha fatto Cioè, allora Enocide ricorda genocide in inglese Che praticamente Vuol dire genocidio Infatti lui si sta mangiando tipo Sembrano tipo degli organi, no? Guardate quanta carne, quanti cuori ci sono Ci sono pure degli scheletri Si vede che effettivamente Enocide ricorda genocidio Quindi effettivamente lui avrà ucciso Tante persone purtroppo E io Questa cosa mi viene anche da dissociarmi Perché è veramente brutta Però cosa sta facendo lì sotto? Sembra che si stia facendo Sta scavando Guardate, guardate Cosa sta facendo? È veramente strano Mi sembra Aspetta, mi sembra che abbia aperto una Una chest Oh, intanto dobbiamo anche stare attenti A non farci vedere Perché secondo me lui Aspetta, aspetta Scorro un attimo E aspetto che se ne vada da lì Perché Appena se ne va Io vado a vedere un attimo Cosa C'era là sotto Perché secondo me C'era una chest E non vorrei dire Ma questa chest Secondo me rappresenta Qualcosa Un suo segreto Un qualcosa che lui effettivamente ha Adesso Magari vado in questo fiume E cerco di andare immediatamente Perché Mi sto già un po' rompendo le scatole Di aspettare dietro al suo sedere Cioè Ora è È Aeno Baros Pena nel senso Io sono Duny Non è che posso aspettargli dietro No Ok Se ne sta andando per fortuna Ok, perfetto Adesso entro Ok Andiamo Andiamo Eh, attenzione Stavo guardando da questa parte Dobbiamo stare attenti Forse potrebbe essere una trappola Forse lui Aspetta un attimo Ho una minima idea Di quello che sta per succedere Mi sa che è una trappola Vado sottoterra E da sottoterra Io No, però non ho voglia di stare sottoterra Ho paura che lui mi spii Mh Mannaggia Però devo Aspè, aspè, aspè Ho un'idea Devo andare da questa parte Perché se vado da questa parte Riesco meglio Basta che scavo qua sotto Non devo nemmeno scavare troppo Quindi vado così Aspè Faccio così Scavo Ok Andiamo da questa parte Perché evidentemente Vedete lui è qua sotto E qua sotto Ho visto che Ho sentito anche una cesta Che lui stava nascondendo qualcosa E io non vorrei dire Ma questa cosa è abbastanza inquietante Ok, aspè Mi chiudo qua dentro Prima di tutto Porco miserio Non l'ha visto Non l'ha visto, vero? Ti prego dimmi che non l'ha visto Allora, prima di tutto Lui qua Non l'ha chiuso, vero? Ok Dobbiamo stare attenti Dobbiamo fare velocemente E ha tanti cuori Tante orecchie là sotto E c'ha la motosega Raga Io ho paura Allora, aspetta 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 No, raga Raga, raga Raga, 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 raga No, come faccio ad uscire? Raga, via, 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 via Mi sa che mi ha capito Mi sa che mi ha capito Ok, ok, ok Mi ha trovato Come caspita ha fatto a trovarmi Accidenti Sono stato pure steltissimo Ma sto qua È molto più forte di quanto pensassi Accidenti, ok Devo immediatamente andare a fare il rituale Prima che lui Allora, prima di tutto Spero di perderlo di vista Ok, no, no, no Non sono qua dentro Non sono qua dentro Allora, le cose per il mio rituale Sono queste qua Io pensavo di non averne bisogno Invece ne ho bisogno E come, purtroppo Perché se non lo faccio ora Lui potrebbe veramente decidere di farmi fuori E non ho voglia sinceramente di morire in questo Sono troppo giovane per morire Quindi, adesso Prendo queste torce Prendo queste cose E mi faccio un rituale Dove lo faccio? Lo devo fare in casa Quindi mi scavo questo legno Questo coso Perché veramente Non mi interessa se questa cosa serve per mantenere il tetto su Cadesse pure il tetto Ma l'importante è che adesso io faccio questo rituale Qua sopra Oh mio Dio Non mi deve sentire Se scopre che io sono qua sopra E la fine Allora, faccio così Metto le torce Come, caspita Era il rituale Allora, faccio Era, era Ok, così Allora, le torce così No, 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 no Mi ha distrutto Mi ha distrutto il mio rituale Come faccio a farlo ora?